M. Domenico Toscano al termine di Padova-Feralpi-Sala 1-1, una prestazione importante, un pareggio ottenuto in rimonta e siete anche andati vicini alla vittoria. Sì, una prestazione importante, sono contento per la prestazione perché siamo cresciuti rispetto alla partita di Gubbio sotto l'aspetto del gioco, della prestazione. Sono un po' ammaricato perché questi ragazzi meritavano forse qualcosa in più del pareggio, l'avrebbero meritato per quello che hanno prodotto in campo, però prendiamo questo punto, la prestazione che ci fa pesperare, pensando già a domenica perché ci aspetta un'altra partita di Gubbio. Si torna subito al lavoro in preparazione della partita con la Fermana? Sì, domani mattina rinizieremo di nuovo la preparazione perché ci aspetta, come ho detto, una partita difficile a Fermo perché la Fermana sta cercando di far punti e viene da una sconfitta quindi sarà una partita difficile da affrontare.